Come si diceva allora? Frederick Mayer, 1843-1901, grecista e latinista di fama, uno dei maggiori esperti dello spiritismo, come si diceva allora, fu tra i fondatori e presidente nel 1900 della Società per la ricerca psichica. Si dedicò ai fenomeni di telepatia con Edmund Garnie, coniando lui stesso questa parola. Fu uno studioso denso di pubblicazioni e di esperimenti. Ma al di là degli inesistenti successi precisi della mente, il Mayer deve la sua fama al messaggio Mayer, una prova di identità che ebbe come protagonista lo studioso e, dopo la sua morte, la sua entità sopravvissuta. Il 27 gennaio 1891, il Mayer scrisse un breve messaggio noto a lui solo. Lo chiuse in una busta sigillata e lo consegnò al suo amico Sir Oliver Lodge. Gli disse che la busta doveva essere aperta solo se, dopo la sua morte, qualche medium avesse ottenuto, riguardo a tale messaggio, una comunicazione che apparisse provenire da lui. Se la comunicazione corrispondeva allo scritto, si avrebbe avuta una prova convincente della sua sopravvivenza. Dopo molte comunicazioni di medium risultate fallimentari, la signora Verral, medium e amica del Mayer, passò una sua comunicazione all'oggio. Questi, attraverso una serie interminabile di interpretazioni, passate anche al vaglio della Società per la Ricerca Psichica, giunse a dire che, se il Mayer avesse semplicemente ripetuto le parole del messaggio, avrebbe lasciato il dubbio che la Verral le avesse conosciute per semplice chiaroveggenza. Seguendo, invece, la via del suggerimento e della connessione tra fatti diversi, il Mayer aveva trovato l'unico modo per dimostrare, con ogni possibile probabilità, la sua presenza. E questa sembrerebbe accordarsi con una entità che aveva fatto della mente l'unico motore della sua ricerca spirituale. motore che naturalmente sopravvisse nei primi momenti del suo dopomorte.